cos'è cos'è che cos'è secondo voi lo volete fermi la fermi la cannaie giugno fermo lì black ma lo vuoi veramente questo lo volete guarda guarda il black qua che cos'è il bastoncino che voi amate tanto allora fate i bravi dovete ascoltare ehi papà guarda black black oi guardami allora fate i bravi mi raccomando no 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 seduto stai lì stai lì non ti muovere non ti muovere sì ok ok adesso io vi darò la vostra parte ma dovete fare i bravi girate di qua bravo totò così totò qui guarda totò guarda totò totò non lo vuoi va bene io la do la scilla io la do la mamma ferma lì totò lo volete è black papà black no 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 fermi guardate guardate va bene allora io do qualcun altro allora mi raccomando i bravi fatti i bravi ragazzi certo e sì mamma bella mia bambina bambina cosa c'è totò cosa che è la scilla cosa scilla davvero amore davvero cosa vuoi questo e perché ma te lo meriti te lo meriti cosa hai fatto oggi di brava niente e hai fatto i piatti hai fatto la colazione papà hai fatto il caffè niente e tu nano malefico cosa hai fatto tu hai pisciato lo so tu ciccione cosa hai fatto hai fatto le palline di cacca il soggiorno normale e tu ehi e tu vecchio idoscause tu guardare guarda ehi e io isしいa ma perché va bene adesso ve lo do se provate i bravi e in riga come vi ho insegnato sempre così bravi in riga ok va bene brava così si fa brava che bella che sei bellissima, si amore